Se avete riscontrato così un errore riguardo al DXG Driver su FIFA 25, ovviamente l'errore che sarebbe questo qua, le vostre schede grafiche anche serie 3000, un errore che si chiama DXG Arrow Device, questo qua su FIFA ovviamente ogni volta che andate a giocare a farvi una partita vi potrebbe uscire questo errore del DirectX crescere anche dalle partite di FIFA. Quindi in questo caso puoi risolvere il problema aggiornando i driver della tua scheda grafica oppure semplicemente in descrizione ti ho lasciato così un pacchetto, un pacchetto che usavo spesso per i driver su Fortnite per risolvere i problemi di crash ed eccolo qua. Il pacchetto ovviamente si chiamerà Fortnite 4 Fix Repair, è un pacchetto proprio per aggiornare tutti i driver e inserire così i driver sulla scheda grafica, quindi in questo caso trovi tutto in descrizione, un file mediafire. Quindi è un pacchetto RAR, tasto destro sopra winrar, estrai i file in fc25, entri così nella cartella ed eccola qua. DirectX Install e Microsoft Runtime, questi due qua ti servono e basta. Andiamo su DirectX Install, devi estrarre il pacchetto RAR in questa cartella DirectX 12 Setup, ci clicchiamo sopra ed eccolo qua. Quindi come funziona? Copi così il percorso file, fai copia, copi così questo percorso file. Tasso destro su gestione dispositivi, questo qua su Start. Andiamo sulle schede video, 1660 sub è la mia scheda grafica, aggiorna driver, cerco il driver nel computer e inserisco così il percorso file e basta. Faccio avanti e installo così il software. I driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati. Puoi cercare anche i driver aggiornati Windows Update, fai una verifica e vedi se devi fare qualche aggiornamento su Windows 10 o Windows 10. Una volta fatto entro di nuovo in questa cartella, vado su Microsoft Runtime ed eccoli qua. Installo tutti i driver, tutte le applicazioni, tutto quello che serve per risolvere i problemi di Crash e DirectX. Quindi faccio install tutto, inizierà così un processo dal 2005 fino al 2022. Quindi fai sempre sì e installi tutti gli aggiornamenti, tutti i driver per il tuo computer. Questi qui sono tutti i driver per Microsoft, quindi manutenzione per Microsoft, come si chiama anche qui il framework che lavora meglio sul tuo sistema. Quindi, una volta installato questo, dobbiamo anche installare un altro software che sarebbe i DirectX Runtime. Una volta installato, quello che devi fare è riavviare il computer. Ora, andiamo direttamente su DirectX Runtime. Tu basta che scrivi DirectX Runtime, questo qua. Ti porterà sulla pagina web installer DirectX and User Runtime. Scarichi così il software che è più per il software DirectX 9, 10 per la montaglia di rendering dal DirectX 9 fino al DirectX 11 e puoi anche risolvere i problemi dell'audio. Vai qua sopra, scarichi e installi così il software. Accettiamo il contratto, fai avanti, togli così questo spunto, fai avanti e installi così il driver. Se non dovesse bastare, se hai una scheda grafica Nvidia, c'è il programma che si chiama Nvidia App. Un'ottima applicazione per aggiornare le nostre schede grafiche Nvidia. Per AMD invece c'è il software che si chiama AMD Adrenaline. Tu basta che scrivi su un browser AMD Software Adrenaline Edition. Scarichi il software e lo installi. Io non posso installarlo perché non è compatibile con il mio computer. Quindi posso solamente usare Nvidia App. Nvidia App ed eccolo qua. Cerco così i driver da ricerco per vedere se ci sono aggiornamenti da fare sia su Driver Game Ready e Driver Studio. Scarico e installo così gli ultimi driver rilasciati per Nvidia. E vedere se si può proprio risolvere al 100% questi problemi di crash su FIFA 25 perché molte persone già stanno avendo problemi. Sia con il controller, DirectX, problemi di crash che non funziona, non si apre. E quindi aspettiamo che l'Electronic Arts faccia qualcosa per risolvere il problema al più presto. Quindi per ora noi ci arrangiamo con questi software aggiornando e aiutando così i nostri componenti a lavorare meglio sul nostro computer. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.